Facciamo uno per uno. Yomo con le banane. Ci piace, eh? Lo sai che da piccola dicevo sempre Yomo per dire yogurt. Non sapevo che Yomo era il nome di una marca. Yomo è cremoso e dentro ha solo cose che ci fanno bene. Tanta vera frutta e niente di artificiale, come quei conservanti, quegli aromi. Invece Yomo ha tantissimi fermenti lattici. Beh, questo te lo spiegherò quando sarai più grande. Yomo, l'importanza di un nome.